Cari amici, siamo negli anni della truffa semantica, dell'inversione lessicale, siamo allo stupro del vocabolario, agli abusi sull'analisi logica. Incentivare, la parola d'ordine è incentivare, uno slogan che nella realtà significa obbligare, un po' come accoglienza che nella realtà si traduce in una tratta di esseri umani o di carne umana, come lo definisce Attilio Lucia, che a Lampedusa denuncia il fenomeno dell'immigrazione incontrollata. E questo produce anche, si traduce questa immigrazione in una montagna di soldi, da cui molti, molti italiani anche, guadagnano molti soldi. In questa confusione, per fare chiarezza, non resta che affidarsi al vocabolario e all'analisi dei fatti. Prendiamo il vocabolario treccani. Cosa significa incentivare? Significa incrementare, stimolare, mediante opportuni aiuti e provvedimenti, l'attività e la produzione nei vari settori dell'economia o anche l'iniziativa e la produttività privata. Ecco, mentre le misure incentivanti o i premi incentivanti sono previsti talora negli impieghi pubblici e privati per accrescere il rendimento dei dipendenti. In questo caso, invece, queste misure incentivanti vengono messe in campo per accrescere il numero dei vaccinati. Incentivare lo hanno già fatto e lo stanno facendo in tutti i modi. Pensiamo, per esempio, alla pressione psicologica esercitata dalle televisioni e dai telegiornali, alle pubblicità con i VIP, come ai tempi della discesa in campo di Berlusconi, al arruolamento casa per casa, agli open day e alle vaccinazioni in discoteca. Come a Torino, dove fino alle 3 del mattino a suon di musica sono stati vaccinati mille ragazzi tra i 18 e i 28 anni nelle stanze della Reale Mutua. O come a Rieti, dove si è partiti alle 9 del mattino ma con i ragazzi in coda già nella notte. Temevo di non riuscire a entrare. Ha detto un dodicenne, dodicenne. Sono qui da ieri sera. È importante fare il vaccino per tornare alla libertà. E qui si vede il totale lavaggio del cervello che hanno fatto non solo sui ragazzini, sui bambini, ma anche sui loro genitori. E non sono mancati nemmeno gli incentivi, al fine appunto di accrescere il numero dei vaccinati. Repubblica al primo giugno, vaccini open day per i maturandi, riavremo la libertà e come regalo una copia della Costituzione. Ed eccolo qui, no? Il premio incentivante, la copia della Costituzione. Bene, preso atto che incentivare hanno già incentivato, vediamo adesso il significato di obbligare. Obbligare, stringere con obbligo, legare con vincolo giuridico o morale. Ma vediamo il secondo significato che a noi interessa ancora di più. Forzare, costringere, imporre come obbligo, e attenzione qua, anche senza un vincolo preciso e perentorio. E leggiamo anche la frase d'esempio, no? Non si possono obbligare gli altri a fare e a pensare a modo nostro. E questo poi, se vogliamo, è esattamente il contrario di quello che sta accadendo oggi, no? Perché queste persone vorrebbero obbligare gli altri a fare e a pensare a modo loro. Ve lo ripeto, imporre come obbligo anche senza un vincolo preciso e perentorio. Ed è quello che vogliono fare. Imporre il Green Pass per obbligare la popolazione a farsi iniettare dei sieri sperimentali. Lo vogliono fare appunto con il Green Pass, che non è, appunto, non è un vincolo preciso e perentorio a vaccinarsi, no? Ma che di fatto costituisce un obbligo per poter continuare a svolgere una vita sociale e anche per poter continuare a lavorare, che vi ricordo è il primo diritto sancito dalla nostra Costituzione. Euronews il 12 luglio scrive, vaccinazioni, Green Pass e nuove misure. L'Europa cerca di fermare la variante Delta. E all'interno si legge, da Londra a Parigi, dove la parola d'ordine è immunizzare. Il presidente francese Emmanuel Macron pensa all'obbligo vaccinale per tutti i cittadini. Per ora sarà obbligatorio il vaccino per il personale sanitario. Da inizio agosto sarà poi richiesto il pass sanitario per entrare nei ristoranti, nei bar, per usare i mezzi di trasporto. Mentre dal 21 luglio sarà richiesto per andare al cinema, a teatro o negli altri luoghi di svago. E veniamo alle reazioni dei cosiddetti esperti nel nostro paese. Green Pass, Italia come Francia, cosa dicono gli esperti? 14 luglio 2021, ADN Kronos. Bassetti, seguire modello Macron. Pregliasco, Green Pass per bar e ristoranti al chiuso non sarebbe male. Ricciardi, rilascio dopo due dosi di vaccino. E passiamo a Rai News, un mezzo per non tornare indietro quando i contagi saranno più elevati. Green Pass, Sileri, seguire subito l'esempio della Francia. Pressing sul governo da parte di alcune regioni e categorie per l'utilizzo del Green Pass Covid come strumento d'accesso a locali e spettacoli, come sta avvenendo in Francia. Favorevoli anche nel PD. Salvini, critico. Meloni, follia anticostituzionale. Costa, no a Green Pass, obbligatorio. Queste sono un po' le reazioni. Ma veniamo a quanto dichiarato da Bassetti, che ribadisce il concetto del lockdown per i non vaccinati. Ho detto una cosa logica, se dovrà esserci un lockdown o una restrizione, è evidente che riguarderà chi non è vaccinato. Non è che io dico cose diverse da quello che fanno gli altri. Chi andrà a scuola in presenza nel momento in cui ci sarà circolazione del virus, ci andrà chi è vaccinato. E chi non è vaccinato farà la DAD. Mi pare talmente logico. Ma andiamo avanti, perché se possibile Bassetti fa anche peggio. Secondo me si deve arrivare a un punto in cui si dice alla gente, non ti vaccini e allora noi mettiamo il Green Pass. Ecco, qua lo dichiara apertamente. Questo è un obbligo, no? Non ti vaccini e allora noi ti mettiamo il Green Pass, così ti obblighiamo. Chiaro e tondo. Andiamo avanti. D'altronde, se tu vuoi prendere un aereo oggi, come lo prendi? Con il Green Pass. E questo già non è vero, perché ci sono delle compagnie aeree che non chiedono il Green Pass. Se vuoi andare all'estero, come ci vai? Con il Green Pass. Noi dobbiamo far diventare a livello italiano quello che oggi il Green Pass rappresenta a livello europeo. Ogni attività deve essere regolamentata dal Green Pass e questo è uno strumento per incentivare chi non si è vaccinato. Quindi a posto di incentivare, ormai lo sappiamo, possiamo leggere tranquillamente obbligare chi non si è vaccinato. E infine qui siamo all'apoteosi del non-sense. Sentite cosa dichiara. Per fare le cose al meglio e in libertà, anche ad ottobre, e qui c'è la minaccia del lockdown ad ottobre, dobbiamo usare il Green Pass e non ci trovo niente di male. Allora, per questo, io veramente non voglio insultare nessuno, ma ce ne sarebbe veramente a questo punto da cantargliene quattro a queste persone. Come si fa a parlare di libertà e di Green Pass, è evidente che se io devo avere un marchio, devo avere un pass per andarmene in giro, l'ultima cosa che sono è libero, non sono più libero, nessuno sarà più libero. Questo veramente è oltre la presa in giro. Io non voglio credere che gli italiani siano così rincitrolliti da credere a queste cose che non stanno né in cielo né in terra. È evidente che questo non significa incentivare, significa obbligare. Poi ci sono un paio di cose da dire, ovvero che Bassetti e i suoi colleghi, per quanto si sentano gasati, no, perché il mainstream li ha trasformati da perfetti sconosciuti in una sorta di starlette televisive, restano dei medici il cui primo obiettivo, ma soprattutto il cui primo dovere dovrebbe essere quello di curare i malati, di trovare una cura, non di andare in televisione a dire che l'unica soluzione è il siero sperimentale. Iniziamo col dire che questi signori una cura non solo non l'hanno trovata, ma hanno apertamente osteggiato terapie che hanno dato risultati molto incoraggianti e quindi invece di andare in televisione a lanciare anatemi che trovassero una cura. Che poi c'è da dire che se si trovasse, diciamo così, quella famosa cura, ebbene questi signori sarebbero rovinati proprio perché se ci fosse una cura, una cura ufficiale intendo, se ci fosse una cura ufficiale, una cura ufficiale allora non ci sarebbe bisogno di alcun vaccino. Poi la cosa veramente grave è il fatto di nascondere e mistificare la realtà. È la manipolazione delle informazioni operata all'unisono da tutti i mezzi di informazione. Allora, per prima cosa il mainstream non ha mai detto chiaramente che si parla di sieri sperimentali e che la sperimentazione terminerà nel 2023 e infine che non sono prevedibili i danni a lunga distanza, ma nemmeno a breve come abbiamo visto. Per esempio lo abbiamo visto con AstraZeneca, l'AstraZeneca e le trombosi. Cito solo questo perché in seguito a quello che è successo è stata addirittura modificata la scheda tecnica, scheda tecnica che però probabilmente nessuno legge prima di sottoporsi all'iniezione. È possibile che così tante persone non si rendano conto? Che senso ha un Green Pass per i vaccinati se possono poi ammalarsi, contagiare e a volte morire per quella malattia da cui pensavano di essere ormai immuni. QDS.it 12 luglio, variante delta, 117 morti in Gran Bretagna, 50 con doppia dose di vaccino. Numeri che suscitano interrogativi in Inghilterra dove la vaccinazione è molto molto più avanti rispetto all'Italia, ma nonostante questo ci sono più di 30.000 contagi al giorno. E all'interno si legge. Sono 117 i morti da variante delta in Gran Bretagna, secondo i dati ufficiali rilasciati dal Ministero della Salute. 50 dei 117 deceduti erano vaccinati con doppia dose e non solo perché 20, altri 20, erano vaccinati con singola dose. 44 erano non vaccinati e 3 è un dato sconosciuto. E questo vuol dire che su 117 deceduti purtroppo 50 più 20, ovvero 70, erano vaccinati. Oltre la maggior parte dei decessi erano vaccinati, erano persone vaccinate. Dati ufficiali. Andiamo avanti. E passiamo al fatto quotidiano e vediamo come le informazioni vengano manipolate a seconda di chi le pubblica. Leggiamo il titolo del fatto. Variante delta in UK impennata di contagi, ma non di ricoveri. Su 117 morti, 50 erano vaccinati, ma over 50 e con patologie pregresse. E poi sotto si legge. Le statistiche delle istituzioni britanniche calcolano che il programma vaccinale contro il coronavirus sia stato in grado di prevenire 7,2 milioni di infezioni e 27.000 morti solo in Inghilterra. Ora, come fanno a dire una cosa del genere? Addirittura i vaccini avrebbero prevenuto 7,2 milioni di infezioni, ma l'Inghilterra, che è la nazione europea con più vaccinazioni, ha comunque 30.000 nuovi contagi al giorno e ha decine e decine di persone vaccinate che muoiono ogni giorno di Covid. E questo dà l'idea di come vengano rivaltate le notizie, perché oltretutto il fatto quotidiano non riporta nemmeno che c'erano anche 20 persone vaccinate con prima dose tra questi decessi. Ma è interessante quanto è riportato all'interno. Esattamente questa parte. Secondo le statistiche di Public Health of England, al 25 giugno c'erano 514 ospitalizzazioni. Di queste, 304 pazienti che non erano vaccinati. Quindi vuol dire che su 514 persone in ospedale, 304 non erano vaccinate, ma 210 sì. Quindi comunque in Inghilterra su 514 persone ospedalizzate a causa del Covid, 210 erano vaccinate. Questo è il punto. Cari amici, a causa dei contenuti trattati non è possibile pubblicare qui il seguito di questo video. Puoi continuare la visione del video sul sito di InformalTV www.informaltv.it. Trovi il link nella descrizione di questo video. Per aggirare la censura che sta oscurando i canali social e i video di InformalTV e per non perderti i nostri video vai sul sito www.informaltv.it ed iscriviti alla newsletter. Inserisci il tuo nome ed il tuo indirizzo email. Quindi clicca sul tasto subscribe.